La similitudine è una figura retorica che serve ad ampliare il concetto espresso o a determinarlo meglio. Consiste nell'accostare all'idea che si esprime un altro pensiero o un'altra idea che si ritiene meglio conosciuta all'ascoltatore. Per chiarire meglio il nostro pensiero, per dilatare il senso della nostra comunicazione, facciamo spesso ricorso all'analogia. La similitudine è una delle figure fondamentali dell'espressione, da cui derivano ad esempio l'allegoria e la metafora. Come nel linguaggio verbale, anche nel linguaggio visivo esistono similitudini concettuali e similitudini visive. È concettuale la somiglianza tra lo sfondo fiorito e la bella rosina diversa. La similitudine si può istituire quasi esclusivamente tra due realtà visibili, quindi tra oggetti reali. Quanto ai procedimenti che rendono possibile realizzare una similitudine, dobbiamo sottolineare come molte di esse nascono dall'osservazione attenta della realtà, che naturalmente offre occasioni. E' basata proprio sul senso dell'insolito che nasce da accostamenti riusciti, vedi il ciclofe di Redon. Altre volte la similitudine è prefabbricata. Esiste anche il vasto campo delle elaborazioni, di cui ancora una volta a testimoniare l'intervento volontario dell'autore, che permette l'accostamento di due realtà che mai o difficilmente sarebbe possibile trovare dal vero accostate. Vedi il dipinto di Ransom.